Grazie ad essere fotografato, filmato o registrato e alla conseguente diffusione della propria immagine per la riproduzione televisiva e o su maxi schermi presenti all'interno del luogo dello spettacolo e per l'inserimento nei materiali promozionali e o commerciati di qui sopra. Il consenso con sopraespresso deve intenzersi prestato anche con riferimento ai soggetti minori in età da parte dei genitori o adulti esercenti la potestà su di stessi. Nel momento in cui acquistano il figlietto e in ogni caso quando accompagnano i minori all'interno del luogo dello spettacolo attenzione per voi, si avvise il figlio pubblico che all'interno di un piano a lina è il generamento di paulso maldesto compreso il simbolo di sigarette elettroniche. In caso di emergenza vi preghiamo di mantenere la calma e di seguire le istruzioni del personale di servizio. Come fosse necessaria l'evacuazione, dirigersi ordinatamente verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine a voi. Sempre per motivi di sicurezza vi preghiamo di non occupare le scale e di percorso il disminuto. Grazie. 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 Grazie.